Musica Bene, Plescia si è stato premiato dai giornalisti come miglior giocatore in campo dell'Unione Stampa Sportiva Italiana, Lussi. Buonasera a tutti e grazie. E allora iniziamo con le domande, straface. Il Messina vince grazie a una grandissima rete, ha fatto i complimenti sinceri anche a Mr. Bertotto perché dice che non si poteva marcare meglio, è stato molto bravo e poi magari perché no forse anche un po' fortunato. Ce lo racconti questo gol a chi ti sei ispirato? Intanto ringrazio Mr. Il gol è venuto che ha attaccato il secondo palo e Giulio mi ha visto, me l'ha messo sulla corsa, sono stato bravo, magari il portiere non pensava potesse arrivarci. Un po' di fortuna, un po' anche magari l'abilità nell'alzarmi con la gamba così in alto ed è arrivato il gol. Allora, Villa, Gazzetta del Sud. Tanto complimenti per il gol, però anche, l'ho detto anche Mr. Modica, avete giocato solo una parte di gara, troppa sofferenza negli ultimi 15 minuti che è quella proprio che il Mr. vuole cancellare. Questa è una cosa che fondamentalmente dobbiamo migliorare, specialmente in panchina c'era una sofferenza che non era normale, dovremmo subito chiudere la partita quando è così. Non è facile, però dobbiamo migliorare su questo e cercare di chiudere le partite prima possibile, anche perché contro la Turris o contro comunque altre squadre abbiamo preso gol nei minuti finali. Davide mangia pane, aveva alzato anche lui la mano. Più l'altro me l'ho alzato tutto io, che non è che si veda tanto. Era su alcune situazioni di sovrapposizioni quando i tuoi compagni arrivano sul fondo. Volevo sapere, voi se avete già dei movimenti più o meno che sapete che dovete fare, perché diciamo troppe volte, perché potreste concretizzare molto di più quelle situazioni, non si riesce a fare l'ultima giocata in maniera diciamo precisa. Certo. Io principalmente tendo ad attaccare il primo palo, l'esterno dall'altra parte tende ad attaccare il secondo. Oggi è capitato che ho attaccato io il secondo palo perché ho visto che il difensore mi marcava davanti e ho cercato di sorprenderlo alle spalle. C'è sempre da migliorare, è normale. Se ogni cross dovesse essere goal saremmo tutti qui 5, 6, 7 a 0. Però dai, sono molto felice per come si è comportata la squadra alla fine perché l'impegno non manca mai. Siamo un bel gruppo e sono davvero felice di essere qui. Certo. Sì, Vincenzo, complimenti per il goal. L'abbiamo detto alla Holland, l'abbiamo detto tutti. Però ti chiedo se a volte, non solo oggi in generale, non ti senti un po' solo tra virgolette in era di rigore, non credi che i tuoi compagni debbano un po' accorciare prima, aiutarti? Perché tu sei anche molto bravo nel fare le sponde, far giocare queste seconde palle. Non manca forse questa cosa qui, anche come alternativa al fatto che tu finalizzi l'azione? No, certo. Però oggi comunque sia, non per giustificare i compagni o me stesso, ma faceva molto caldo. Quindi è normale che arrivavamo poco. Comunque mi venivano sotto sullo scarico. Mi sento solo, ma non sempre. Forse è una sensazione. Molte volte dicono che faccio il reparto da solo, non è vero. Ci sono sempre i miei compagni che mi accompagnano davanti o dietro. Bisogna migliorare in tutto, forse anche un po' in questo, però c'è tutto l'anno per farlo. Ciao, complimenti. Ciao, grazie. Dove lo metti questo gol tra quelli segnati in carriera? È il più bello o ce ne sono stati altri più belli e più significativi per te? E poi ti chiedo se c'è una quota che vuoi raggiungere a questo punto in termini realizzativi in questo campionato. Allora, questo gol lo metto sicuramente nel podio, perché parte sotto la curva del Messina. Poi in termini di bellezza, anche con un po' di fortuna, però ho fatto fondamentalmente un bel gol. Per quanto riguarda i gol che ha detto, uno spera sempre più possibile. Spero di arrivare almeno in doppia cifra e poi da lì più in alto possibile. Per te Repubblica. Ciao, Vincenzo. Ciao. Complimenti intanto per il gol. Ti volevo chiedere se il cambio è stata una scelta tecnica oppure se avevi speso effettivamente tutto. Perché comunque, proprio quando sei uscito tu, si è vista l'importanza del tuo lavoro. Perché è stato il momento in cui la squadra poi ha sofferto di più. No, è stata una scelta tecnica, però io ero in sofferenza. Nel senso che magari avevo giocato nell'ultima settimana tre partite di 90 minuti. Poi faceva anche molto caldo e è giusto che il mister mi abbia cambiato. Per quanto riguarda la sofferenza, quella ci può stare perché loro lo attaccavano. Poi ci hanno pure espulso un giocatore, quindi è normale che la sofferenza si sentiva di più. Per quanto riguarda la sofferenza, la sofferenza si sentiva di più.